La vittoria dei record. Roseto batte la Bacchery Piacenza in una serata memorabile. Intanto gli Sharks vincono la quarta gara su cinque nel girone di ritorno, delle quali tre dopo un tempo supplementare, per inciso nel corso del campionato, i ragazzi di coach d'Arcangeli ne hanno messi insieme sette, di cui tre solo a Verona. A trascinare al successo la squadra un monumentale person, 46 punti di cui 30 arrivati dalle triple. Infine, i due punti preziosi conquistati ieri sera, oltre ad essere vitali in chiave salvezza, consentono al Roseto di starsi a quota 18, che senza fare voli pindarici pericolosi significano comunque zona playoff. Sul parquet della squadra rosetana è piaciuta soprattutto la voglia di fare e stare in battaglia. Una gara, quella del Palamegetti, dove gli Sharks hanno condotto per tutto l'ultimo periodo facendosi acciuffare da una triplissima di Pastore prima e Castelli per il sorpasso poi, con Achele che ha messo dentro soltanto un tiro libero, valevole comunque per l'89 pari. Nel supplementare è salito ancora in cattedra Person, assistito da tutta la squadra, rimasta più lucida di Piacenza, che alla fine cede di misura 101-100. Per i biancazzurri, oltre al surreale Person, 16 a testa per Achele Pieric, 12 e 8 rimbalzi per Sherrod. Dall'altra parte, super prova di Pastore con 32 punti. Prossimo impegno degli Sharks a Iesi in posticipo mercoledì 13 febbraio con inizio alle 20.45.